Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Filon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere libertà. Grazie per la visione! Il coraggio di poter scegliere libertà. Siete arrivati fra i primi dieci, vero? Assolutamente sì, abbiamo stramigliorato il quinto posto dello scorso anno al maschile con una bella prestazione, con un bel argento dietro all'Emilia Romagna che è un po' la potenza nel trial. Ma soprattutto abbiamo presentato quest'anno la squadra femminile che non era mai stata presentata, sono arrivate molto bene, le donne sono arrivate quarte e ci hanno consentito di fare un bel terzo posto nella classifica di combinata. Che bello, che bello l'Abruzzo e Molise che sei responsabile della Lega Atletica. Nel fine settimana c'è stato anche il chilometro verticale a Celano con grande successo, due chilometri e cinquecentometri di salita per un dislivello di un chilometro e cento metri. E poi domenica mattina alle ore 4 la partenza di un 84 chilometro dove tutti gli abruzzesi non solo erano presenti. Un weekend Wisp anche per i bambini, grande successo anche a Pescara sabato pomeriggio. I complimenti a Mauro Trubiano e Tutto Passologico che ci hanno regalato proprio la conclusione di un carnet di offerta importante. Allo stadio Adriatico e Pescara. A proposito di Adriatico ci tuffiamo proprio nell'Adriatico perché andiamo a presentare i nostri ospiti con tre iniziative sul mare. Possiamo dire tre gare da amare. Andiamo con il primo, Marco. Buonasera Marco, bentornato. Buonasera a voi, ben ritrovati. Marco Assogno, direttivo della squadra Atletica Pineto con l'effigie poi del fratino ormai consolidato. Consolidato. Allora, salve a tutti. Noi stiamo organizzando per la seconda volta l'evento Corsa del Sostizio. Vi aspettiamo numerosi. Ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. Prima ancora però, domenica, saremo a D'Ortona, meglio ancora, Villa Sant'Ommaso. Vero Martina? Sì, sì. Buonasera a tutti, ben rivisti. Buonasera, ben arrivata Martina Tucci. Ripetiamo, vogliamo dire, figlia di Luciano. Viglia d'arte. Viglia d'arte. Possiamo dire che non me ne vogliono gli altri, ma è quello che, quantomeno è quello che ci credi di più, che si dà da fare di più per questa bella iniziativa che è tornata nel tempo. Sicuramente la persona che conosciamo tutti in assoluto al mondo del bodismo. Era stata già con noi Chiara, Chiara di Silvestro, buonasera, bentornata. Dicevo, prima di entrare, mai più nome azzeccato, Chiara. Chiarissima. A proposito di Chiara, la zona del vino, bianco, rosso e cerasuolo, ce n'è per tutti i gusti. Il vino ci sarà sicuramente all'arrivo per tutti, oltre che come premio, perché se si va a vedere la locandina ci sono, non voglio esagerare, ma forse 30 cantine che vi sponsorizzano. Sì, abbiamo avuto un bel riscontro, continuiamo ad avere un bel riscontro e speriamo anche in un futuro che ci siano ulteriori cantine che partecipino a questa nostra iniziativa. Non bastano mai, veramente un elenco importante. Passando poi tra l'altro tra i vigneti, la gara attraversa proprio, tu che ne sai. Eh, lo so perché ho visto molte clip, tra l'altro questa sera presentiamo anche l'ultima clip realizzata da Nico Leonelli, fresco azzurro di Ultramaratona. Non è andata benissimo, però è tornato veramente testimone della manifestazione, ma non solo lui, da iniziare, ce n'abbiamo di personaggi in, in questa manifestazione. Ultimo, ma non ultimo, la Nico Luciano Fesce, buonasera. Già bronzato, già al mare. Già bronzato, Francavilla, scusa il sole, ce lo prendiamo. Francavilla da mare. Quindi vi aspetto il 22 giugno a Vistamare, a Gara Podistica, quest'anno ci aggiungiamo pure la camminata, a Working, quindi appunto chi volesse partecipare. Abbiamo parlato di Ortona con il vino, ma sicuramente il vino non mancherà neanche da... Non manca manco a Frangheri, il vino è la base, l'Abruzzo, scusiamo, l'Abruzzesi, un bicchiere di vino. Ma c'è sempre quel discorso di mangiare a fine gara? Sì, a fine gara facciamo un pasta party, diciamo, sagne e cece, frutti di mare, con un buon bicchiere di vino. E che cosa volete di più della vita? Se a Ortona si mangia... Chi vuole un Lucano? Ci sono io, Luciano, ci togliamo la I e facciamo il Lucano. O meglio ancora, io come prendo in giro il papà suo, Luciano, forse è ancora meglio. No, questo è il Lucano. Quello è Luciano e io è Lucano. Allora, abbiamo parlato di mangiare da Ortona lo stesso, anche quest'anno rifate. Come no, riproponiamo il pasta party, ci saranno arrosticini, dolci. La torta, vero chiara? La torta, immancabile. La torta non può mancare, perché festeggeremo gli anni di Martina a fine manifestazione. E poi ci prepareremo, ci sarà il brindisi finale con le lacrime di Luciano. Perché Luciano, come completerà questa manifestazione, ricomincia a pensare che la figlia ad agosto si sposerà. E allora, povero Luciano. Marco, abbiamo parlato di mangiare, Pineto, assolutamente. Abbiamo da meno noi, stiamo preparando la paella, già testata nella settimana scorsa, come avete già visto. Poi c'è il classico ristoro, con frutta, dolci e quant'altro. Birra per tutti i partecipanti alla nostra gara del sostizio del 21 giugno. Sai che ha mangiato la paella? Tu non lo sai? Non lo so, sto guardando queste immagini proprio a bocca aperta. Il nostro presidente Alberto Carulli era lì ad assaggiare per tutti quanti noi. Purtroppo tra i compiti dell'omologazione del percorso e della gara, il coordinatore compete anche la cura di questi aspetti gastronomici. Marco, una domanda che mi hanno fatto in diversi, io ho già dato una risposta. C'è la gara a bambini? Allora, la gara a bambini per quest'anno siamo ancora in lavorazione, però diciamo che nel prossimo mese ci sarà un altro evento a Pineto, la notte dello sport, dove lì sicuramente faremo una location adatta ai bimbi per far cominciare ad approdare una nuova generazione in questo campo. Noi tra l'altro in questa gara abbiamo messo una 5 km non competitiva, di modo che tutti si possano accingere a percorrere la cittadina correndo o camminando. Comunque alla fine poi il ristoro ce l'avranno le stesse. Per cui possiamo dire che ci fossero dei bambini che accompagnano i genitori, perché nel pudismo accade anche questo, il bambino accompagna il genitore potrebbe fare la 5 km che però non prevede una classifica. Non prevede una classifica, è solo a scopo di divertimento, ecco. Promozionale, come ci piace. Promozionale per, come dicevo, andare un po' più avanti di crescere la nostra società, far crescere la nostra società anche con una della classe un po' più piccola, ecco. Perfetto. Qui vediamo delle immagini. Alcune immagini della scorsa edizione, è andata benissimo, siamo stati in tanti, siamo stati in tantissimi. Quest'anno ci siamo riorganizzate nello stesso modo, quindi organizzando sia per le docce, che saranno nei lidi sul mare, quindi la cambusa, la lucciola e adesso mi sfugge la pinetina, che ringraziamo per la loro collaborazione. Avremo i parcheggi custoditi, avremo... Qualcuno mi chiede dei massaggi. I massaggi. Addirittura avremo anche i massaggi a fine gara. Abbiamo ingaggiato la San Stefar Abruzzo con uno stand dove faremo massaggi ai partecipanti alla gara. Poi, cos'altro? Far parte del circuito Corrile Abruzzo e si assegnano addirittura 50 punti. 50 punti al Corrile Abruzzo, esatto. Poi cosa aggiungere? Per la tranquillità di tutti i podisti possiamo dire che avete anche previsto un parcheggio custodito con persone che magari evitano di farci trovare qualche sorpresa. Esatto, quest'anno abbiamo riempito a questa cosa per dare maggior servizio ai nostri partecipanti. Senza più sorpresa, allora. L'unica sorpresa la troviamo proprio tra le manifestazioni della gara. Allora, come sorpresa invece abbiamo i premi. Abbiamo allargato il mondo dei premi. Perché? Oltre ai primi tre personali maschili e femminili abbiamo dato anche il premio alle categorie di primi 5 e gruppi fuori regione. Bravo Roberto, ecco mi sfuggiva. Alle società fuori regione saranno premiate i primi, secondi e terzi, quelle regionali, secondi e terzi e di categoria i primi 5. E siccome il percorso ricade fra le iniziative certificate o meglio non certificate ma comunque approvate dalla UISP c'è anche il record del percorso. Il record del percorso è un campionato regionale di 10.000 su strada. Il record l'anno scorso è stato al maschile di 32,30 di Adugna e 37,48 della Mancini quindi vi auguro di battere questo favoloso tempo sulla 10.000. Marco, specifichiamo però solo per il primo che batte il record perché se ti arrivano 20 persone che battono il record in modo... No, il primo che si abbasserà sotto i 32,30 maschile... Perché potrebbe capitare che arrivano 10 e tutti i 10 fanno il record. Io me lo auguro però la vedo dura perché sarà una gara velocissima come lo è stato lo scorso anno quindi... Ah, nel senso che sarebbe dolori per voi che dare 150 euro. Sì, avranno un buono da consumare come offerta dall'associazione Balneatori e l'associazione Albergatori scusate le gaffo oggi e niente è un buono da consumare presso la nostra cittadina. Ci dicono che Berardo Medori è in forma smagliante quest'anno. Eh sì, diciamo con un sì minuscolo però. Un sì minuscolo perché sta decadendo nelle ultime fasi. Come cuoco però. Come cuoco sta salendo le quotazioni, come su pista meno. Martina, ci siamo ormai? Noi siamo pronti, siamo carichissimi, anche un po' emozionati perché insomma per noi la terza edizione ogni anno ci impegniamo sempre di più. Ma tutti, voi siete... Una famiglia. Una famiglia, siete quattro gatti tra virgolette, quante famiglie, 20 famiglie. Sì, sì, sì. Ma veramente tutte quante unite per far sì che Villa San Tommaso tornasse come lo era negli anni... Assolutamente. Infatti io magari mi ripeto sempre, però ci tengo sempre a sottolineare che è un gruppo stupendo. C'è tanto tanto spirito di sacrificio, tanta passione. Ha un legame e una cultura per il proprio territorio come non si vede da nessuna parte. veramente... E la cosa bella è che riuscite proprio a trasmetterlo. Un po' alberico come era qualche anno fa a Congiunti quando ti fu fatto il fan club a sorpresa. Qualche anno fa il primo fan club di Congiunti, è vero. Dove veramente tutti gli abitanti erano uniti e coesi per la riuscita della manifestazione. Poi però basta un nulla per far crollare il castello. Infatti con Giunti ancora ci sono persone che mi chiedono quando, perché, come mai. Speriamo che si possa ricorrere su quel bel tracciato. Chiara, tu conosci il percorso? Sì. L'hai fatta correndo? No, camminando. Correndo, guardo in determinati tratti. Si preparano mesi prima, già per sfalciare, per pulire. Infatti io manderei un attimo quella clip che abbiamo preparato perché ci dà un'idea del fatto che non sia semplicemente una corsa su strada, ma è una corsa sulle strade del vino. Esattamente. Ma questo è proprio il percorso, il terreno di gara. Sì, sì. Sì, sì. Ciao. Allora, il percorso è sicuramente molto duro e impegnativo, però è veramente molto bello. E chi non ha provato sinceramente dovrebbe venire il 17 giugno, perché è una gara veramente molto particolare. C'è poco asfalto, ma è corribile che è lo stesso. Pegnativo sicuramente. Secondo me il 17 giugno è una gara da provare. Però come sono cattivi, hanno fatto un'intervista alla fine della salita, no? Siete proprio cattivi. Però nello stesso tempo, finalmente siamo riusciti ad avere Nico Leonelli in trasmissione, perché tante volte l'ho invitato, ma lui poi è abbastanza schivo alle telecamere, ci ha sempre detto di sì, ma poi ha rimandato a questa clip. Sì, per noi è stato un grande piacere, comunque un grande onore. Ci sono, certo. Ci sono tante altre clip in giro, vero Chiara, vero Martina, con Bisio, Mammuccheri, Rocco Sifredi, ma anche a livello femminile. Come si chiama? Malena. Malena, anche Malena ha fatto degli spot al Berico per propagandare la gara. L'anno scorso fu fatto anche, l'anno scorso e due anni fa, anche un vino appositamente per la manifestazione, che adesso quel vino non... È raro, quindi chi ce l'ha, chi lo possiede, se lo tenga ben stretto perché... Come si chiamava il marchio del vino? Di Castorani Rocco. Vino Rocco. Lucia. E secondo me Luciano sta carpendo idee per il prossimo anno. Anche per quest'anno fa ancora il tempo. Il strato del vino è tra il mare. Dopo che hanno fiduto il strato del vino, appunto, a noi tutto sul mare si svolge. Quindi c'è la notizia, il strato del mare nord di Francavilla, l'anno prossimo conto di farla tutta Francavilla, dovrebbero fare il ponte sulla Lento, dovrebbero. E quindi... Anche il porto a sto punto. Il porto sì, ma il porto non influisce nel percorso. No, nel senso si farà anche il porto a Francavilla. Sì, il porto... Sì, il porto adesso, quasi. Penso che per qualche mese si apre. Quindi Luciano, più o meno si ripropone il percorso dello scorso anno. Sì. Partenza e arrivo sempre... Il porto è il percorso, due volte da percorrere la pista scrovedonale nord di Francavilla. Speriamo che venga la pioggia, Luciano. Quindi, speriamo la pioggia. No, così non c'è nessuno che ci... Infatti, ci vanno già, perché qua sono un po' di poveraccio. Invece là c'è un po' troppo traffico. Troppo traffico nel senso di persone che passeggiano. Quindi quest'anno, come dicevo, c'è anche la classica camminata. E poi, noi pensiamo pure alla sicurezza, è la prima cosa. Io sono presidente dell'ITF, pure all'istituzione di Francavilla. E ho munito tutti gli associati di defibrillatorie. Quindi, lungo tutto il percorso, ogni 200 metri, diciamo, c'è un defibrillatore. Non c'è. Una sviolinata. Non c'è. Visto che sei il presidente... Un complimento ti va fatto, allora. A te è tutta Francavilla, perché... Perché Francavilla, credo che sia più Francavilla... Francavilla, che è un altro po' tutta la costa, come attività che riuscite a fare nell'arco dell'estate. Veramente, non c'è una giornata senza un'attività importante. Però, devo dire... Con Francavilla, penso che sia, se non l'unico paese d'Italia, perché non lo sai, che i cebenti inverniari sono muniti di defibrillatore. Però, Luciano, noi come Wisp siamo andati ancora oltre. Perché tu, come presidente, hai munito tutti gli stabilimenti. Invece noi, come dirigenti, abbiamo addirittura montato sul presidente un defibrillatore. Quindi, insomma, siamo anni luce. Sul presidente. Eh sì. Alberico sta avanti. Lui corre sempre. Il futuro ci ha le spalle. Le spalle. E salutiamo Alberto, che è sempre in ripresa, dopo l'operazione appunto di montaggio del defibrillatore, è ormai rientrato alla grande. E' quello che è come il pomodoro, no? Il dilemma del pomodoro è che nel futuro c'è il passato. E lui invece il futuro c'è le spalle. Ricordiamo la location precisa, dove arrivare, perché Francavilla è bella, lunga. Quindi, allora, il 22 giugno, la partenza è, diciamo, le pressi alla punta dell'Est. Dunque, questa confine con Pescara. Francavilla Nord. Francavilla Nord, quindi dove comincia la pista ciclo pedonale. E quindi partenza 17. Chi viene dall'autostrada a prendere la circonvallazione, uscire a Francavilla e andare a San Silvestro, a Francavilla a San Silvestro e andare, prendendo il lungomare, andando verso su. Quindi l'aspetto, stanno dai bambini fino a... Noi premeremo il più anziano. Capito Marco? E anche quello che metterà più tempo. Però entro la mezzanotte deve arrivare. Cioè, dopo che noi abbiamo finito cenare, non aspettiamo più. Chi si perde, insomma. Chi si perde. Per perdersi a Francavilla sulla strada... La pista ciclabile deve essere uno che ha perso la memoria prima di perdere la strada. Infatti. Che è impossibile. A fondo. Siamo pronti a... Hai notato un particolare sulla locandina che ha fatto Luciano? Non ci ha scritto l'edizione. Secondo te perché l'ha scordato o perché è per un vezzo? La quinta edizione. La quinta edizione. E' la quinta. Sono tre manifestazioni al Berico, tutte e tre giovanissime. Sì, è vero. Perché partiamo con Pineto appena la seconda edizione. La più antica, la più vecchia è proprio quella. O Sino Martina, prima vedi famiglia a organizzare. Io invece ne siamo. Io è che mi aiuta mio figlio. Una famiglia assoluta. Quindi è proprio stessa cosa. Stessa cosa. Da solo. Sempre famiglia. Solo mio figlio che rompo e mi aiuta. Vabbè, però tu ci metti un anno per un altro a organizzare. Ma tu devi coinvolgere, così come loro coinvolgono le 20 famiglie di Villa Sant'Omaso, devi coinvolgere gli albergatori che fornisci di... Il defibrillatore magari gli dai possibilità di integrarsi. Vabbè, cambiamo il discorso. Marco! Eccoci pronti. Parco della Pace, dove si trova? Noi lo sappiamo. Parco della Pace a Pineto su Via D'Annunzio, diciamo a 3-400 metri dall'ingresso sud della rotatoria di Pineto. Uscendo dall'autostrada. Uscendo dall'autostrada, mentre invece diciamo che usciamo proprio di dirigersi sulla destra, verso la statale e poi andare sulla sinistra e imboccare la via Martella dove c'è il Conad e quindi si arriverà sulla strada principale. Oppure entrare dal bivio dove c'è il semaforo nella zona sud ed entrare proprio al centro, dove troverete i parcheggi custoditi come appena citato poco fa. E a proposito di strade, troverete le strade completamente chiuso al traffico. Sì, però abbiamo il parcheggio fuori dal percorso nella zona via Roma, praticamente all'altezza del semaforo, come poco fa dicevo, al semaforo sud della zona della statale. Quindi lì c'è proprio un 200 posti auto, più un altro, ce l'abbiamo su Via Figliani, proprio nell'imminenza della partenza, che sarà sulla strada d'Annunzio, quindi dicevo, nel Parco della Pace. E poi percorreremo le strade principali, andremo a percorrere anche il lungomare pinetese e quindi con l'occasione vado a ringraziare anche tutti i collaboratori nostri che ci hanno dato modo di realizzare questa manifestazione per la seconda volta. Beh, con voi è tornata grande l'atletica Pineto, che grande l'è stata già nel secolo. Esatto, come mi raccontate, io ero piccolissimo, però lo è stato. Oggi cerchiamo di riportarla in alto, come dicevo, ci stiamo provando. Diciamo, i numeri ci sono stati lo scorso anno. Quest'anno vi aspetto numerosi come l'anno scorso. Come coordinatore UISP mi preme ringraziare fra i tanti collaboratori Angelo Gravina, che è colui che è venuto a misurare e ad approvare, non certificare, ad approvare il percorso, a garantire che siano 10 chilometri precisi spaccati e quindi a voi dare la possibilità di assegnare il titolo regionale dei 10 chilometri. Esatto, lo ringraziamo Angelo Gravina per la sua presenza. Seconda edizione, terza edizione, se facciamo due più tre fa cinque e ci siamo. I numeri sono al nostro favore, capitano. Sono, alberico, veramente tre organizzazioni giovanissime, ma con un'esperienza, in molti secondo me dovrebbero imparare, andare da loro e dire ma come fate a fare delle manifestazioni così belle e così importanti e così ricche anche nel contorno, perché non basta solo fare la gara di 10 chilometri e finire, perché da voi inizia già in anticipo, ma per finire veramente a mezzanotte. Sì, 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 finirà a mezzanotte, perché ovviamente dopo la gara ci sarà il pasta party, quindi ci sarà modo di trattenersi, di festeggiare, ovviamente di bere tutti insieme. La premiazione anche sarà lunga, perché quest'anno i premi, insomma, saranno molti, davvero. Alcuni non posso svelarli. Assolutamente, tutta una sorpresa. Sì, e insomma, sì, sicuramente i festeggiamenti dureranno fino tardi, sì. Ci sarà anche, non manca la beneficenza, vedendo la locandina, anche questa volta farete beneficenza alla solidarietà, alla salute mentale, all'associazione. Chiara, per arrivare a Villa Sant'Ommaso, uno che, allora, da Fano ci stia ascoltando e non sa dove sta Villa Sant'Ommaso. Allora, le informazioni sono sia sul sito del Ponticello, quindi ASD il Ponticello, che su Facebook, oppure dietro alla locandina c'è un codice che, inquadrandolo con lo smartphone, fa arrivare direttamente a Villa Sant'Ommaso. Oppure, dove trovate vigneti. Dove trovate vigneti, fermate, camminate, prima o poi ci arriviamo. Tra l'altro so che c'è una bella rivalità con le frazioni vicine, che un giorno ho provato a dire... Abbastanza, abbastanza, però una rivalità sana, diciamo. Un giorno, non dico la frazione dove mi trovavo, però vai a dire a Luciano, che bella frazione che c'è, che non conoscevo. Secondo me è anche più bella di Villa Sant'Ommaso. Oddio. Oddio. Mi ha detto, è l'ultima volta che viene a fare lo speaker. Allora ho detto, no, sto scherzando. Allora ho capito di che frazione parlavi. Anche perché è una bella frazione. Sì, sì. Ma non ricordo neanche il nome, c'era sempre il nome di un santo. Sì. Sanni? No, beh, non lo diciamo. Andiamo. Non mettermi in questa posizione. Siamo amici di tutti. Luciano, ultimo appello. Venerdì. Vi aspetto tutti. Venerdì, tra l'altro. Venerdì, tra l'altro. Venerdì si mangia pesce. Si mangia pesce, quindi, segnette, ceci con i frutti di mare, un bel gelato ciascuno. Pure. Eh beh, scusa. Siamo al mare. Giustamente, siamo venuti al mare. Ma sti organizzatori. Un gelato per tutti. Sì, e quindi... La torta, la paese, il gelato. Gli atleti devono essere... Ma sti organizzatori qui spaventano. Anche perché, devo dire che lì c'è anche la gara bambini, quindi si aspetta... La gara bambini si parte da 0 a 100 anni. 101 no. Sino a 100 anni. Facciamo 100. Abbiamo parlato di numeri. Abbiamo, infine, la possibilità dal 17 giugno al 22 giugno di prendere addirittura 100 punti del circuito Corriere Abruzzo in tre gare. Insomma, Roberto, non possiamo mancare né all'una né all'altra né all'altra. In pochi chilometri. Quindi volevo ringraziare, permettimi, qualcuno che collabora con il Pareso, dove appunto si mangia a fine gara. Quindi collabora effettivamente. Un po' di cantine pure nella cantina di Torrevecchia, di Ripetatina, Pasetti. Dimentichi qualcuno. Dimentichi qualcuno di sicuro e te lo facciamo dimenticare perché siamo arrivati alla fine. Chiediamo scusa a quelli che... Grazie. A quelli che... La colpa è mia che ti plò. Passo la palla a te. Non, la colpa è mia che non puoi elencarle tutte le cantine. Alberico, diamo l'appuntamento. Ci siamo. Alla settimana prossima con tutte queste belle gare da gustare. Grazie a Silvia, alle telecamere e Maurizio alla regia. Come sempre ringrazio alla WISP dell'opportunità. Buona serata. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Filon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere libertà. Grazie a Silvia, alle telecamere. Grazie a Silvia, alle telecamere. Grazie a Silvia, alle telecamere.